Torna pure quando vuoi, siamo sicuri che avremo qualcosa di interessante. Ehi, ha un prezzo molto ragionevole. Guarda, la ricordella lampeccia. Dai un'occhiata al tuo elenco degli incarichi e vedi che cosa significa. Ehi, guarda, la tua ricordella sta lampeggiando. Immaginavo, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. Beh, ci vediamo alla prossima bottata. Oh no, c'è qualcosa di innovato. Torna pure quando vuoi, siamo sicuri che avremo qualcosa di interessante. Ehi, ha un prezzo molto ragionevole. Guarda, la ricordella lampeccia. Dai un'occhiata al tuo elenco degli incarichi e vedi che cosa significa. Ehi, guarda, la tua ricordella sta lampeggiando. Immaginavo, abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. Beh, ci vediamo alla prossima bottata. Oh no, c'è qualcosa di innovato. Beh, ci vediamo alla prossima bottata. Quello che la mette ho messo l'acqua quattro volte. Adesso non comparte, ci stemmerò un'altra volta. Ciao ciao, ci vediamo a tutti. Ciao ciao.